L'anno scorso ci siamo lasciati così. Un problema di questi guanti però è che quando si bagnano tendono tanto a inzupparsi. Non capisco bene il perché ma vi assicuro che quando si bagnano davvero perdono tanta tanta acqua. Dunque la cosa più sensata è capire quale membrana impermeabile è meglio per dei guanti. Nel particolare oggi proviamo una membrana Gore-Dex ed H-Dry. Infatti io sulla mano ho dei guanti H-Dry con Primaloft e la loro membrana. Mentre qui con me c'è Ruben che ha degli zainer con Gore-Dex e Primaloft giusto? Sì esattamente. Quindi adesso andiamo a confrontarli e vediamo come performeranno. Oltretutto abbiamo anche trovato la giornata perfetta. Cioè guardate siamo partiti con un po' di pioggia adesso è già diventata neve e pioggia gelata. Quindi sicuramente giornata perfetta per fare questo tipo di prova. Siamo partiti da tre quarti d'ora più o meno. Ruben fammi vedere i tuoi guanti. Raccontaci un po' come li senti. Iniziano ad essere pesanti e belli zuppi. Direi non il top. Escursione è finita. Andiamo un attimo alle conclusioni. Vi assicuro abbiamo trovato un tempo veramente veramente cattivo. Ho ripreso poco anche perché il telefono non ce la faceva banalmente. Per quanto riguarda le condizioni meteo praticamente abbiamo preso tre ore. Tre ore e mezza di neve e acqua. E poi quando siamo arrivati in cima al colle c'era un vento veramente incredibile. Parlando di guanti però. Io come dicevo H-Dry guardate nessun problema. Sì un po' nell'esterno si sono bagnati ma perché comunque la parte esterna alla fine va a bagnarsi. Però sempre lo stesso peso e non ho avuto davvero nessun tipo di problema. Non si sono inzuppati eccetera. Giusto per vi faccio vedere anche il sinistro. Anche lui. Quindi niente davvero mi sono trovato benissimo. Ruben invece. Non posso dire la stessa cosa. Adesso siamo in Ativale che ci stiamo un attimo spogliando. Beh che dire i miei sono belli pesanti. Il problema è che sono anche logicamente inzuppati d'acqua. Poi col brutto tempo che abbiamo preso. Sono parecchio irrigidite. Le punte delle dita non riesci più a lavorare. A fare bene la presa anche se hai la picca né niente. E niente. Direi che la prova è fatta. È conclusa. Eccoci tornati in studio. È arrivato il momento di capire perché i guanti di Ruben si sono così tanto inzuppati e congelati. Mentre i miei no. Come vi dicevo i guanti di Ruben avevano una membrana in Gore-Tex. Mentre io ho utilizzato dei guanti con membrana H-Dry. La grande differenza tra questi due membrani, questi due tipi di guanti, non è in sé la membrana. Non tanto la membrana perché nonostante Ruben avesse il guanto congelato la mano era asciutta. E anche io ho la mano asciutta. Quindi a livello proprio di impermeabilità possiamo dire che non c'è una grossa differenza. La grande differenza sta nel dove viene applicata questa membrana. Parlando dei guanti di Ruben, quindi con membrana in Gore-Tex. Questa membrana viene applicata all'interno, nello strato più interno del guanto. Questo rappresenta un grosso problema perché tutta la parte esterna del guanto va appunto a inzupparsi, va a bagnarsi. E in casi estremi, come è successo a noi, quest'acqua potrebbe anche congelare col freddo e andare a indurire completamente il guanto. Oltre a congelarsi, poi il grosso problema è che a questo punto il guanto tenderà a raffreddare la mano più che a scaldarla. Tanto vero che arrivati a un certo punto ho dovuto dire a Ruben di togliersi i guanti perché si stava congelando le mani. Ha dovuto tenersi le mani in tasca tutto il tempo con degli scaldini nelle mani per riuscire un po' a scaldarsene. Però se no rischiava veramente di avere dei geloni e dei grossi problemi. Per quanto riguarda poi anche la traspirabilità, questo tipo di costruzione del guanto è un problema perché nel momento in cui si ha il guanto completamente impregnato d'acqua, capite che la traspirabilità diventa praticamente zero. I guanti in H-Dry invece sono fatti in modo diverso. La membrana viene messa sullo strato più esterno del guanto, quindi non c'è il rischio che tutta la parte superiore vada a inzupparsi perché appunto è protetta dalla membrana. In questo caso non andando naturalmente a inzupparsi non c'è neanche tutto il problema di diminuzione della traspirabilità, non c'è il problema che si vadano a inzuppare, che possano congelare e via dicendo. Facendo un po' un analogismo col vestiario, che secondo me rende molto bene l'idea, è come se domani andaste a fare un'escursione dove fa freddo e piove magari e prima indossate il guscio e sopra il guscio mettete il piumino. Capite che non ha molto senso e questa è la costruzione che utilizzano i guanti con tecnologia come il Gore-Tex. I guanti invece con tecnologia come H-Dry, facendo sempre l'analogismo col vestiario, è come se metteste su prima il piumino e sopra il guscio. A questo punto capite che ha decisamente più senso. Quindi la grossa differenza non è il tipo di membrana, ma è dove viene posta questa membrana. E capite che in quei casi in cui piove, nevica, come è stato il nostro caso, o per esempio fate delle cascate di ghiaccio dove la mano rimane tanto a contatto con l'acqua, con il ghiaccio e il guante potrebbe tendere a inzupparsi. Ecco lì diciamo che i guanti di H-Dry veramente hanno una grande, grande differenza rispetto al Gore-Tex. Quindi questa è la grande differenza tra questi due tipi di guanto, proprio dove viene posta la membrana. Una piccola precisazione perché se ad oggi di guanti in Gore-Tex ne esistono tantissimi, non è difficile di comprarli. Di guanti in H-Dry al momento sul mercato ne esiste solamente un modello, ma H-Dry mi ha rivelato che nel prossimo inverno 24-25 ne arriveranno diversi. Quindi ne aspettiamo magari ancora qualche mesetto e vedrete che di guanti in H-Dry se ne potranno comprare un bel po'. E detto ciao ragazzi, nella speranza di avervi risolto un po' il dubbio sul perché i guanti impermeabili si inzuppano. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!